Perché ora, oppurete, sarebbe effettato oggi, un valore di carattere e spero che non è un problema che non è passato probabilmente o è un vento lungo di più e ora non voglio un giro perché non si viena e va in città E' un po' più di respiro. Il punto è, se io non pago 100 di tasse, non mi fanno niente e mi riduco le tasse a 110.